Ciao ragazzi, a questo noi sono Raffa e ci siamo tornati su Undertale Ragazzi, oggi dobbiamo andare a combattere Papyrus Tu che cazzo vuoi? Noi, anche tu sei un bambino, vero? Lo capisco perché porti una maglia a strisce Cosa? Copione! Crilbis Ci sono mai stato io qui dentro? Oh, non mi ricordo proprio Ma comunque allora Qui c'è cane Chiamava Cane maggiore Qui c'è cane minore Gioga a poker da solo Sembra stia perdendo Stia perdendo contro qui Qui c'è Dogo, qui ci sono Dogami e Dogaresa Possiamo anche andare avanti Anche se prima Vedere che c'è qui dentro Che c'è anima avanti Libra Librarbi Rarbi Non d'ascondo adesso A proposito, qui dietro C'è una porta È chiuso Ma come posso aprirla? Sicuramente la soluzione Sarà consenso Senza Umano Mettimi da male Sentimenti Sentimenti come L'agere di tornare Un altro ormai In un vaso L'ambitazione Beh Scopo tutto Scopo tutto Blah 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 Io il granipirus ti sarò No È tutto sbagliato Non posso esserti amico Sei un umano Devo catturarti Allora Potrò leggere il sogno Di una vita Potente Popolare Prestigioso Ecco papirus Nuovo membro La guardia reale Ok Flirt Cosa? Flirt Sare Cosa? Ok Bene Non ho qualcosa Da cucinare gli spaghetti Oh no Lo buciamo insieme Ok Guarda è facilissimo Risparmia Quindi non combatti Allora Vediamo se resisti Alla Il mio favoloso colpo blu Ok Uh guarda Senza mani Ora sei blu È il mio colpo Nia Ha 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 Grido stronzo Mmm Chissà Che dovrei mettermi Cosa sta dicendo? Uh ok 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 Sembra giocare A geometry dash Ok 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 Spermia Spermia Viena Fammi usare il colpo speciale Te lo faccio usare subito Anzi facciamo così Io mi tolgo un po' di vita E vediamo che cosa fai Ok 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 Aha Vi ho apprezzo per il curo Non gli ho tolto niente Spermia 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 le sue opzioni Spermia le sue opzioni Avrò frotto di ammiratori Di ammiratori Ma Ma cosa? Oh 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 Papyrus prepara un' Un' attacco osseo 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 E adesso sarà il mio colpo speciale Perchè non la usi ora, aiuto, aiuto, basta, ok, no, 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 mi sono distratto, mi sono distratto. Questo gioco qui è drogato. Beh, Anf, è chiaro che non puoi, Anf, sconfiggermi, io vedo che te la stai facendo addosso, perciò io, il grande papyrus, ti allergo pietà, ti risparmio mano, è la tua chance, accettate la mia pietà. Risparmia. Non posso neanche fermare uno debole come te, sei certo, forza, ti vuoi sedia ad imitare torre. Andai in Sardusa, non entrerò mai nella guardia ideale. E la mia quantità di amici rimarrà stagnata, non so leggere. Dovresti dire, che spiccate, noi andiamo amici, andiamo amici. Davvero, vuoi essere mio amico? Beh, allora, suppongo, suppongo di potertelo concedere. Wow, mi andiamo, va, 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 va. Ma è Gesù, cammina sull'acqua. Ok, andiamo a, andiamo indietro. Abbiamo il nostro solito appuntamento, che è la terza volta che lo faccio, così. Tornando per uscire con me, devi fare davvero sul serio, in merito. Dovrò portarti in un posto molto speciale, un posto dove passo un sacco di tempo, certo. Allora, ti fai la cazzata, intanto. Casa mia! Potrà che c'è allora? Qui c'è la camera di senza. E io ho visto in alcuni video che si può entrare. Ma come posso entrarci? Questa è la mia stanza. Se hai finito di esplorare, potremmo entrare per quello che c'è dentro, se... Come posso entrarci? Allora, se hai visto tutto, iniziare l'appuntamento? Se metterlo, cosa succede? Fai con calma, ti aspetto. Allora, se hai visto tutto, vuoi iniziare l'appuntamento? Iniziare l'appuntamento, sì. Ok, iniziamo. C. Domenica. Ah, quindi questa roba qui c'è, indica proprio che cosa è, se c'è... Adesso, tipo, è notte e qua è notte. È domenica e qui è domenica. Eccoci al nostro appuntamento. In realtà non l'ho mai fatto. Ma tranquillo. Preparersi. Ho preso una guida alle uscite di mi protega. Intento uscire con te. Sì. Davvero? Wowie. Suppongo che ora sia tempo per... Passo tre. Mettere i vestiti per mostrare cura. Un secondo. Vestiti. Quel cerrotto che hai lì attaccato. Tu indossi vestiti proprio adesso e non solo. Anche prima indossi testi. No, è possibile. Volei forse uscire come fin dall'inizio. Tre, due, one. No. Hai calcolato tutto. Sei molto più bravo di me ad uscire. No. Il tuo livello è l'appuntamento. Non credere di avermi battuto. Io il grande abilio non l'ho mai perso. Lo farò. Vedi anche io. Infatti porto sempre i vestiti speciali. Tutti i vestiti normali. Nel caso. Mia. Ecco. Andai. Fantastico. Capisco. Ti aiuterò in qualunque modo possibile. Ok? Allora ragazzi. Siamo in avanti di qua. Monster Kid viene lo stesso? Oppure no? Ah sì. C'è lo stesso. Stato mitico. Sono troppo geloso. Che hai fatto per tirare la sua attenzione? Forza. Andiamo a guardare. Qui a chiare cattivi. Ok? Mo c'è Aron. Ah già. Dopo qui c'è. Ah già ragazzi. Devo far vedere anche un easter egg qui. Questo lo prendiamo e lo mettiamo qua. Questo lo prendiamo e lo mettiamo qua. Questo. Adesso ragazzi. Io lo so che cosa succederà. Ho anche paura a vedere che c'è. Oddio. Con solo davvero. Che c'è qui dietro? Una panchina. C'è una chicca solitaria adagiata sotto la panchina. Quindi. Non lascia. La chicca è stata lasciata tutta sola. Ho preso la chicca abbandonata. Ok. Raffae. Cioè che cazzo il nome è? È bruttissimo. Odorremmo un po' che cos'è? Oh non riesco a leggere. Con attenzione hai fallito il puzzle. Dannazione. Io questo lato torno indietro. Se pareva. Aiuta. Aiutatemi. Aiutatemi. Aiuto. Ci andai. Ci andai. Ci stappiamo. Ci andai. Poi se riesco a fare la prima botta. Mi non c'è. Le medaglie di Obama. 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 Senza prendere le lance. Senza prendere le lance. Ce l'ho fatta. Raga ce l'ho fatta. Dov'è Obama? Dov'è Obama? No ce l'ho fatta. Però. A me non ce l'ho fatta quell'altro. Dov'è Obama? Subito. Subito le medaglie di Obama. No aspetta. Ve lo torno indietro anche da quell'altro. Ma se sei sicuro. Beh 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 beh. Toccato. Non mi la faccio. Ok andiamo avanti. Salvataggio. Questo formaggio è qui da tanto. Quel tempo che gli è cresciuto attorno un cristallo. E' incollato al tavolo. Cioè. Squi. Quick. Cazzo. Dov'è che un giorno il tavolo potrebbe essere. Il. Potrebbe estrarre il formaggio dal cristallo. Diremi. Diremi. Quindi ragazzi. Io per questo episodio. Vi fermo qua. Spero che vi sia piaciuto. E noi ci vediamo nel prossimo episodio di Undertale. Ciao. Ciao.